Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Hola a tutti gente, benvenuti in questo prossimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Allora ragazzi, per chi non lo sapesse ho riaperto il mio canale di gameplay, quindi lo trovate sotto nell'escrizione, tra i canali consigliati. E niente, il mio canale di vlog da quando ho riaperto quello di gameplay è rimasto un po' inattivo, ma questo non c'entra nulla col fatto che io appunto abbia riaperto quello. Il problema principale è che non riesco a trovare delle idee fighe per questo canale e quindi, dato che non trovo idee fighe, preferisco non caricare dei soliti vlog in giro dove faccio sempre le stesse cose e appunto annoiarvi. Quindi ho preferito appunto lasciare il canale inattivo, due settimane fa circa ho caricato il video sulla lampadina smart che riproduce musica eccetera, però non è andato bene. Quindi ho capito insomma che quei tipi di video così non mi piacciono e quindi sto cercando di raccimolare delle nuove idee da portare poi in futuro. E a proposito di futuro, dal 18 al 2 settembre io sarò a Dischia quindi probabilmente sì farò dei vlog lì a Dischia, però invece che farli come l'anno scorso, chi li ha guardati ovviamente saprà, io voglio fare in una maniera più carina insomma con molte più cinematiche eccetera e quindi vedrò se la mia idea riesce o meno nel suo intento. Poi vi ricordo che io faccio tutto da uno smartphone quindi insomma proviamo a fare quello che possiamo. Comunque fa un cacchio di caldo incredibile, ho perso la voce per parlare due secondi, non è possibile. Comunque è sorprendente come io abbia tutta la roba per lo sport tra cui borracella, lo smartband eccetera eccetera ma non mi muovo dalla segna neanche se mi pagano, è bellissima sta cosa. Comunque sia, sì dal 18 al 2 appunto sono in vacanza quindi cercherò di fare questi vlog più elaborati che poi vi ricaricherò a settembre una volta che sarò tornata e li avrò editati. Poi da settembre ovviamente ripartiranno i video perché adesso mi prenderò questo periodo di pausa quindi questa settimana uscirà questo video e poi non ci saranno video fino a settembre appunto quando poi inizieranno ad uscire video delle vacanze. E tra l'altro da settembre porterò un solo video a settimana perché ovviamente devo ricominciare scuola, devo dar retta anche all'altro canale e quindi sarebbe per me impossibile fare tutto. Mi scuso immensamente per le voci di sottofondo di gente che urla a caso ma non posso farci nulla, non posso sparare ai miei vicini purtroppo perché è legale e quindi è, ce le dobbiamo tenere. Comunque sia, cercherò di portare delle cose fighe prossimamente, tra l'altro ho fatto anche hype quindi vi farò sapere poi come mi trovo anche perché l'ho fatta per il fatto che comunque se devo andare a fare qualche viaggio eccetera mi serve una carta di spendere i miei money perché io ne ho tanto, no non è vero, non c'ho un euro, non mettiamo queste voci in tutto il mezzo. Comunque l'ho fatta giusto per avercela insomma dato che avevo solo la posta per il junior e non mi permetteva di spendere più di 150 euro al mese quindi qualsiasi cosa dovesse accadere in viaggio io non potevo spendere più di quella cifra e quindi era un problemino insomma se capitava qualcosa. E niente non so ancora qual è la meta di quest'anno perché l'anno scorso sono andata a Barcellona appunto a marzo con la scuola e il prossimo anno non so quale sia la meta quindi spero un qualcosa di buono così ci porterò tanti vlog figli. E niente sono riuscita a convincere mia mamma a comprarmi la Sony A5100 ovviamente faremo un po' ciascuno insomma qualcosa ciò metterà lei e qualcosa io quindi non vedo l'ora di averla. E niente ragazzi questo era un breve video aggiornamento quindi spero che questo video sia piaciuto se cosa stai lasciando il pollice sul commentare e iscrivetevi al canale se ancora l'hai fatto e noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Bella!